Il Twin Power XD è il mulinello più resistente e durevole della serie Magnum Light. È progettato per operare senza problemi negli ambienti costieri e nelle sezioni di pesca più difficili nei mari di tutto il mondo. La superba sensibilità e la forza andranno a beneficio di molti pescatori in tutta Europa. Non importa se stai pescando spigole o serra o altre forti specie costiere, il Twin Power XD è il mulinello perfetto. Una delle caratteristiche principali del Twin Power XD è il Magnum Light Rotor. Questo mulinello ha un'iniezione del rotore super bassa. Ciò significa che il mulinello è molto veloce nell'entrata in contatto con l'artificiale appena tocca l'acqua. Il mulinello è così sensibile che con il minimo giro di manovella il rotore segue immediatamente, il che è molto adatto per la tecnica del stop and go. Un altro paio di caratteristiche del Twin Power sono Micro Model 2 e Silent Drive. Questa combinazione di ingranaggi super precisi e ingegneria estremamente raffinata produce un mulinello silenzioso e super fluido, anche sotto pressione. Quindi puoi concentrarti su ciò che senti dall'altra parte della lezza, le vibrazioni dell'esca, gli ostacoli nell'acqua e l'attacco del pesce. Grazie a tutti! X-Protect offre una protezione delle infiltrazioni di altissimo livello, senza sacrificare la fluidità e la rotazione del rotore. Questo ti dà la possibilità di non preoccuparti di schizzi e onde. Il Twin Power XD ha la Longstock spool, pertanto la lenza è affolta su una superficie più ampia e ha più spazio per fuoriuscire più agevolmente dalla bobina. Ciò aumenta la distanza di lancio. Aganeghear è prodotto utilizzando la tecnologia di forgiatura a freddo di Shimano, senza alcuna lavorazione aggiuntiva. Ciò mantiene l'integrità e la forza del materiale e puoi fidarti del mulinello mentre combatti anche il pesce più grande. Aganeghear è prodotto utilizzando la tecnologia di questo mondo. Aganeghe. 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 Grazie a tutti.